Diciannovesima giornata del campionato di prima categoria, girone C, l'incontro è quello tra il Grifo Cannara ed il Rivo. Squadre vicine in classifica, Grifo Cannara a metà classifica, quota 25 punti, Rivo leggermente più su a quota 28. Prima occasione per i padroni di casa con un colpo di testa che termina fuori di pochissimo dalla porta difesa da Cicognola. Ci prova ancora il Grifo Cannara, colpisce una traversa, il numero 9 Molinari corre in avanti il Grifo Cannara che si porta poi in avantaggio con il gol di Fiore, 1-0. Rientra sul mancino e calcia, nulla da fare per il portiere, ancora Grifo Cannara in avanti, ancora con Fiore la doppietta personale del numero 11. Alessandro Fiore, 2-0, botta risposta dei padroni di casa. Rigo in difficoltà, prova subito ad agire, sviluppi di un corner, l'uscita da parte di Cagnazzo che subisce anche un fallo. Grifo Cannara che attacca e cerca poi il terzo gol. Qui brutto scontro, deve intervenire il direttore di gara. Subisce anche un grave infortunio. Il giocatore della Grifo Cannara, Camilletti. Costretto ad abbandonare il campo, supportato anche dai suoi compagni di squadra. Gioco che quindi riprende sul punteggio di 2-0 per la Grifo Cannara. Ovviamente facciamo in bocca al lupo al giocatore Camilletti. L'intervallo è 2-0 dunque per la Grifo Cannara. Arrivo che nella ripresa poi prova ad agire, contatto in area di rigore. Non ci sono dubbi per il direttore di gara, calcio di rigore. Dal dischetto spiazza il portiere ma colpisce il palo. Il numero 7, Ceccarani, grandissima chance sprecata dagli ospiti. Che rimangono dunque sotto il gioco, ma non per molto. Perché qui arriva il gol dell'1-2. La spizzata vincente. Si fa in qualche modo perdonare Ceccarani. Poi altra chance per il Rivo. Stavolta fermato in fuori gioco, sempre il numero 7 Ceccarani che ha sbagliato il rigore. Ha trovato il gol facendosi perdonare. Ci prova ancora il Rivo, conclusione dalla lunghissima distanza. Pallone che termina sul fondo, non di molto. E poi altro palo del Rivo, sfortunatissimo. Una conclusione dentro l'area che si stampa sul legno. Rivo che spinge ancora. Qui colpo di testa di Ceccarani che termina alto. Anche poi qualche scintilla tra le due squadre. Viene allontanato un accompagnatore del Rivo. Partita che rimane sul 2-1. Agri Fogannara prova a chiuderla. Spreca tutto però. Da dentro l'area col Mancino Botticchia. Poi calcio d'angolo per il Rivo. Arriva lo spiovente. Pallone che rimane lì. E la zampata vincente è di Bonomo. Siamo 2-2 il pari. Rimonta completata dagli ospiti che poi vogliono addirittura vincerla. Si gira in area di rigore e finisce giù in qualche modo. Ciammarughi, la palla che termina sul fondo. Ma non c'è più tempo. Grifo, Cannara, Rivo, termina. 2-2. Prima di tutto, intanto, i complimenti al Cannara. Perché è stata una bella partita maschia. Secondo il mio punto di vista. Però c'è stato bene o male rispetto tra virgolette da parte di tutti. Quindi, anche se la tensione era abbastanza alta. Peccato che abbiamo regalato il primo tempo subendo due gol che secondo me erano abbastanza evitabili. Però sono contento della reazione della squadra che è riuscita a ribaltare una situazione nel svantaggio facendo un bellissimo secondo tempo. Penso che alla fine il risultato può essere giusto perché abbiamo fatto un tempo per uno. Il primo tempo molto bene noi. Il secondo tempo l'arrivo ha messo in campo tutta la qualità. Sappiamo che è una squadra che ha dei giocatori di altra categoria. È ben allenata. Ci hanno messo le corde. Non c'era andata bene che avevano sbagliato il rigore. Poi sui due gol abbiamo qualcosa da recriminare. Ma loro hanno preso anche l'incrocio dei pali. Quindi penso che il secondo tempo sia stato a pannaggio di loro e il risultato alla fine è giusto. Ci dispiace soltanto per il nostro Alessandro Fiore perché ha riportato una ferita molto profonda all'orecchio. Ha dovuto uscire, aveva fatto due gol, stava andando benissimo. Lì forse anche lì è cambiata un po' la partita. Però alla fine siamo soddisfatti. Grazie. Grazie. Grazie.